Il leccorso di laurea infermieristica di Pesaro ha una nuova sede. Appurata l'impraticabilità a riappropriarsi dei locali dell'ospedale di Muraglia che continuano a essere occupati dalle esigenze del lab vaccinale del nosocomio, infermieristica si è trasferita in via Pertini ospitata all'interno delle aule corsi dell'azienda Team System. Banchi sui quali sono già cominciate le lezioni dell'anno accademico per gli studenti del secondo e del terzo anno mentre dal 25 ottobre si accomoderanno anche le matricole. Futuri infermieri che questa mattina hanno ricevuto il saluto dei rettori e dei docenti delle Università Politecnica delle Marche e di Urbino che coordinano il corso, dell'assessore comunale Franquelluce Ceccarelli e della direzione di Marche Nord nonché dei vertici aziendali della stessa Team System. Grazie a questi nuovi spazi proveremo a lavorare per garantire anche il mantenimento di standard di qualità molto molto alti che hanno sempre contraddistinto il nostro corso di laurea e in ottica più generale l'Università Politecnica delle Marche. Noi comprendiamo che c'è stata una pandemia e che quindi ci sono state problematiche che giustamente quella sede che avevamo è stata utilizzata per le vaccinazioni. Al tempo stesso però la nostra presenza qui a Pesaro come Università Politecnica delle Marche insieme all'Università di Urbino è una presenza che non solo è consistente ma sta crescendo come avete visto oggi e quindi è importante avere delle sedi. Questa va bene per quello che c'è ora, quindi c'è il corso di laurea in infermieristica che ha aumentato il numero a 75, il nuovo corso magistrale che riguarda le professioni di riabilitazione e che consente di dare sbocco ai laureati triennali che ha 30 posti e poi però abbiamo come avete sentito anche nuovi progetti che riguardano progetti di corsi di laurea interateneo con l'Università di Urbino su tematiche ingegneristiche soprattutto della ecosostenibilità industriale. Quindi anche qui una risposta alle forti esigenze del territorio, anche qui però la necessità di sedi. È un cambio di sede che non modifica ma semmai rafforza il lavoro sinergico fra Università Politecnica delle Marche e Università di Urbino. In questo caso è un corso dell'Università di Ancona però ci sono dei contributi di insegnamento da docenti dell'Università di Urbino. Abbiamo anche noi con scienze motoriche, ci sono molti medici che sono legati alla riabilitazione, ci sono gli psicologi, ci sono molti esperti di diritto anche collegato al mondo del lavoro che è spesso legato al problema della riabilitazione in seguito a infortuni sul lavoro. Il direttore generale di Marche Nord, Maria Capalbo, ha applaudito l'organizzazione della nuova sede promettendo pubblicamente che sarà una soluzione temporanea. Il segno è quello che il prossimo anno accademico sarà svolto presso la sede originario, ovvero il polo ospedaliero universitario di Muraglia.